Buongiorno a tutti. Allora, non avete capito male, il titolo è corretto, il Gesù dell'Antico Testamento. Ma perché questo titolo oggi? Non soltanto perché stiamo continuando quel percorso nel cercare di comprendere ancora di più quello che è la conoscenza del Messia nel giusto contesto del tempo, quindi quando Gesù viveva in quella Palestina, in quel territorio giudaico del primo secolo dopo Cristo, occupato dai Romani. Il giusto contesto anche culturale, in che modo veniva percepito dalla cultura ebraica del Messia, ma soprattutto anche il contesto pagano, in che modo era percepito il Messia del tempo dai pagani e quindi in questo caso dai Romani. Ma il Gesù dell'Antico Testamento oggi si fa più che altro ai cosiddetti testimoni, cioè alle citazioni che gli evangelisti hanno fatto nell'Antico Testamento. E per introdurre questo nuovo argomento di oggi, quindi per introdurre poi tutte le slide che leggeremo oggi, voglio citare nuovamente Giuseppe Segalla e il suo libro La Cristologia del Nuovo Testamento, un autore che abbiamo imparato a conoscere già nel video precedente, un importante teologo e presbitero italiano, quindi addentro al mondo cristiano. Perché voglio cominciare da lui? Perché dobbiamo anche partire dal punto di vista cristiano per comprendere anche quella reinterpretazione che è avvenuta. Leggiamo infatti, partendo quindi da Giuseppe Segalla, che è appunto l'introduzione a questo nuovo argomento. La comunità primitiva di Gerusalemme, quindi i Gesuani, secondo quest'autore, sembra abbia utilizzato con preferenza alcuni testi particolari dell'Antico Testamento per illustrare la persona e l'opera di Gesù. Possiamo non riandare dai nostri libri canonici del Nuovo Testamento a questi testi particolari che vengono chiamati comunemente testimonia, perché sono testimonianze, secondo ovviamente la tradizione cristiana a favore di Gesù. Leggiamo poi che il criterio però assunto per individuare quindi questi testimonia della tradizione precanonica è il seguente. Testimonia sono quelle citazioni delle scritture che compaiono in tradizioni diverse del Nuovo Testamento almeno due volte, con l'introduzione è scritto o è stato scritto. Naturalmente però, dice sempre Giuseppe Segalla, citando anche altri autori, altri specialisti del settore, questo criterio però è relativo, ma ha il vantaggio di essere però concreto. A me sembra, quindi scrive l'autore, che nei limiti della sua relatività sia in ogni caso utile per individuare quei testi che più spesso ricorrono nel Nuovo Testamento e che presentano quindi la possibilità di essere stati adottati come testimonia. E poi cita i vari testimoni, quindi testimoni più importanti al Nuovo Testamento, quelli che si riferirebbero a Gesù, quindi citazioni vetro testamentari che secondo i cristiani poi sarebbero delle prefigurazioni alla figura di Gesù e questi che cita per l'appunto Giuseppe Segalla, noi oggi li vedremo, li analizzeremo insieme, li leggeremo e poi come sempre faremo le nostre solite e dovute conclusioni in merito. Prima di iniziare è doverò su una premessa. Come potete ben vedere parte del testo è messo in grassetta e sottolineato, questo perché sono quelle porzioni di testo citate direttamente dagli evangelisti e inseriti nei Vangeli. Quindi noi ci muoveremo in questo modo, leggeremo prima i reti testimoni a cristiani e poi successivamente vedremo in quale tipo di contesto letterario esattamente sono inseriti. Cominciando quindi con il Salmo 2, leggiamo che annunzierò il decreto del Signore, egli mi ha detto tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Abbiamo già letto questo testimonia nel contesto della trasfigurazione di un Gesù quindi che si trasforma, questa nube che giunge dal cielo di fronte ai presenti e da questa nube giunge questa voce, cioè tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. In altri casi in lui mi sono compiaciuti, in lui mi sono riconosciuto. Quello che però è interessante notare è che mentre la tradizione cristiana riconosce in questo testimonia, quindi in questa piccola citazione del Salmo 2, ecco la chiara identificazione del Gesù divino figlio di Dio, in realtà dobbiamo secondo me leggere l'intero Salmo 2 e vedere esattamente il testimonia in quale contesto si inserisce. Perché se noi, ecco, leggiamo il Salmo 2 e vediamo che si parla del Signore, quindi di Yahweh, il Dio ebraico, e del suo Messia, e della congiura dei re della terra contro di loro. Un Dio ebraico che è pronto a costituire il suo sovrano, quindi il Messia come sovrano, e che gli darà quindi in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Quindi distruggerà i sovrani della terra con scettro di ferro come vasi di argilla li frantumerà. E i sovrani quindi dovranno accettare esser saggi e servire Dio con timore e con tremore esultare verso di Lui. Quindi direi che il contesto letterario è alquanto chiaro, non si sta rivendicando una figliolanza divina del Messia. Non c'è un Messia che ha una qualifica divina sovrannaturale o addirittura trascendentale, ma il Figlio di Dio, come abbiamo sempre detto, è una qualifica tanto quanto quella del figlio dell'uomo, tanto quanto quella del figlio del Benedetto, tanto quanto quella del Messia. Quindi il contesto del Salmo 2, così come altri testi vetrotestamentari che tra poco leggeremo, si inseriscono all'interno di quella pura propaganda politica. Il Salmo 8, quindi il testimone che riprende dal Salmo 8, recita così. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. In alcune versioni vi è scritto lo hai fatto poco meno di Dio, poco sotto Dio, e anche qui molti dei cristiani, la tradizione cristiana rivendica che qui una vicinanza alla divinità, una natura divina del figlio dell'uomo. In realtà se noi leggiamo l'intero Salmo 8, anche se in maniera meno esplicita del Salmo 2, si fa riferimento alla prima parte all'affermare la propria potenza contro i suoi avversari nel ridurre quindi il silenzio, i nemici, i ribelli e successivamente il testimonia dare potere su tutto quello che la terra offre, i greggi, gli armenti, le bestie, la campagna, i pesci del mare, perché per quindi rivendicare questo potere del figlio dell'uomo. Non si fa esplicito riferimento a un potere regale ma comunque a un potere su quella stessa terra, su quella stessa generazione, su quella stessa realtà. Qui non c'è nessun riferimento a mondi trascendentali o spirituali, nessun riferimento al figlio dell'uomo che è come Dio. Poi abbiamo il Salmo 110, un Salmo molto particolare anche nel suo incipit, come potete ben leggere, il Signore ha detto al mio Signore, parte così. Siede alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabbello dei tuoi piedi. Questo testimonia è incitato dagli evangelisti quando Gesù è di fronte al sinedio dicendo e parlando del figlio dell'uomo che siede alla destra, che è pronto a sedere alla destra di Dio. Anche qui è riconosciuta la tradizione cristiana, dall'Esgesi cristiana, un'esplicitazione della natura divina di Gesù, perché chiunque si siede alla destra di Dio si sta facendo uguale a Dio, in realtà per la tradizione ebraica non è assolutamente così. Oltretutto, come potete ben vedere, ho messo in rosso e in stampatello il Signore a differenza dell'altro Signore, perché l'incipit di questo Salmo, del Salmo 110, può effettivamente portare un po' di confusione, perché vi sono due Signori, ho tutto scritto in quel modo. Alcune versioni della Bibbia per l'appunto riporta il Signore scritto grande in quel modo, cioè in rosso e in stampatello, cioè in rosso l'ho messo io ma è in stampatello, tanto proprio da differenziarlo all'altro Signore. Chi è il primo? Beh, il Signore non è altro che Yahweh, quindi il nome impronunciabile per gli ebrei, ma quindi il Dio ebraico. Mentre l'altro Signore in ebraico è ripreso con il termine non Adonai, ma Adonì, perdonerete per la pronuncia, che è invece, secondo la tradizione ebraica, ma con un certo tipo di esegesi cristiana, ecco, molto più onesta, possiamo dire così, non è altro che la figura regale, quindi è il re, il consacrato, e quindi se noi volessimo leggere in maniera letterale dall'ebraico sarebbe oracolo di Yahweh, oracolo di Yahweh al suo sovrano, al suo re. In molti, ovviamente, questo re poi lo hanno letto come il Messia, quindi è Yahweh che al suo re dice siederai alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabbello dei tuoi piedi, quindi già qua è alquanto chiara quella che la minaccia anche militare, politica, se pensiamo che questo salmo è stato citato da Gesù di fronte alla cassa certotale. Inoltre, è sempre Yahweh, leggiamo, il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere, quindi è Yahweh che dice al suo re, ecco, avrai lo scettro del potere, dominerai in mezzo ai tuoi nemici, il tuo popolo si offrirà volenteroso quando radunerai il tuo esercito. Parata di santità dal seno dell'alba, la tua gioventù viene a te come ruggiada, ed è sempre Yahweh che ha giurato, continuiamo a leggere il Salmo 110, ha giurato e non si pentirà e dice quindi al sovrano, quindi al re, al Messia regale, tu non solo hai potere regale, ma sei anche sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi immaginate un Gesù che di fronte al Sinedio, quindi a quella casta sacerdotale collusa con il potere romano, che cita il Salmo 110 e non soltanto rivendica la sua regalità messianica, ma citando il Salmo 110 dirà anche io sono sacerdote in eterno, quindi rivendico la qualifica di re sacerdote, quindi non soltanto la figura regale, ma prenderò anche la vostra, la vostra qualifica sacerdotale, tornando a essere quel Messia regale, sacerdotale, quel re sacrale, ai tempi del re Davide e anche prima. Quindi è interessante leggere il Salmo 110 all'interno del giusto contesto e quindi anche rileggere questo Salmo 110 alla luce del contesto di un Gesù che lo cita di fronte al Sinedio. E ancora, il Signore, in questo caso il Messia legale, alla tua destra, quindi la destra di Yahweh, schiaccia i re nel giorno della sua ira, giudica i popoli, ha mucchi i cadaveri, stritola la testa ai nemici in un vasto territorio, si disseta al torrente lungo il cammino e perciò terrà alta la testa. Qui torna nuovamente la domanda legittima, ma in che modo poteva essere percepito un Salmo del genere, quindi dai sacerdoti, ma anche dagli stessi romani nel momento in cui comprendevano e conoscevano il contenuto di questo Salmo, e in che modo dovevano percepirlo, se non come parole sovversive e quindi anche terroristiche, e quindi trova coerenza la condanna a morte di Gesù per crocifissione. Siamo nel Salmo 118, il testimonia recita, la pietra scartata dei costruttori è divenuta testata d'angolo, ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Tutta la tradizione cristiana ancora oggi associa questo testimonia ovviamente a Gesù. Chi è la pietra scartata dei costruttori che è divenuta testata d'angolo? Non è altro che Gesù. Però, come dico sempre, leggiamo l'intero Salmo 118, che è utilizzato per esempio quando Gesù entra a Gerusalemme, quindi il popolo festante che urla Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E leggiamo, per esempio, che tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Questo l'abbiamo anche visto e letto insieme nei video precedenti, ma interessante è che qui entrare nel contesto. Il popolo festante che urla il Salmo 118, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e il contenuto del Salmo recita, i popoli, i nemici, mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Quel Signore, quindi Yahweh, il dio ebraico, che è pronto a inviarci quel Messia liberatore. Quel Messia liberatore che dirà non morirò, resterò in vita, annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Quindi un Messia che non doveva nemmeno morire. Quindi si va contro quella che è la reinterpretazione cristiana. Un Messia vincitore. Certo, il Signore, quindi il suo dio, gli ha dato tante prove, lo ha provato duramente, ma non lo ha consegnato alla morte. Questo perché? Perché il discorso e il ragionamento, ovviamente logico, anche per delle menti, ovviamente come quella giudaica e brega del tempo, molto pragmatica, il condottiero liberatore doveva per forza vincere, non doveva morire. Se moriva, significava che aveva perso. Quindi anche qui siamo all'interno di un contesto, così come il Salmo 110, di pura propaganda militare e politica. Poi abbiamo Isaia 6. Con Isaia siamo all'interno di un contesto esilico-postesilico, di poco successivo. Leggiamo prima il testimonia. Egli disse, va e riferisce a questo popolo, ascoltate pure ma senza comprendere, osservate pure ma senza conoscere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo a essere guarito. La tradizione cristiana l'associa all'Israele incapace di comprendere, tant'è che i primi apologeti cristiani utilizzano anche questo passaggio di Isaia 6 per giustificare la mancata consapevolezza da parte del popolo giudaico nell'aver riconosciuto Gesù come Messia, tant'è che i cristiani, a partire da Paolo, si riconoscono come l'unico vero Israele. E quindi dicendo, anche qui ripeto, partendo da Paolo, non tutti quelli che discendono da Israele sono veri Israele, ma quelli che sono circoncisi nel cuore, coloro che hanno compreso la vera natura del Cristo, il Cristo divino, sono il vero Israele. Quindi anche qui, ecco, entriamo in un contesto completamente differente, perché se poi leggiamo interamente Isaia 6 e quindi continuando la nostra lettura, io dissi, fino a quando, Signore? Egli rispose, finché non siano devastate le città senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata, anche qui in un messaggio certamente non positivo. Siamo in un contesto in cui il popolo giudaico ha subito quindi quella che è l'esilio, quindi sono molti i giudei in esilio che non credono più a quelle che sono state le promesse divine di Yahweh e quindi abbiamo una propaganda, in questo caso, da parte di Isaia, lo stesso Isaia che per esempio riconoscerà in Ciro il Grande e quindi il re di Persia il liberatore del popolo giudaico come il vero messia, quindi siamo all'interno sempre di quella propaganda politica e quindi quello che noi leggiamo nel questo Testimonia Cristiano all'interno di Isaia non è altro che un condannare il popolo giudaico nell'essere stato duro d'orecchio e non aver compreso. Vediamo poi Isaia 28, questo va letto per intero e tra poco capiremo perché. Intanto leggiamo il Testimonia. Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata, chi crede non vacillerà. Qui il richiamo a Gesù, la famosa pietra angolare è abbastanza ovvia per i cristiani che però citano per l'appunto soltanto questo pezzo di 6 a 28. Leggiamolo invece interamente per comprendere il contesto letterale. Letterale è anche letterario. Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine, come turbine rovinoso, come nembo di acque torrenziali e impetuose, getta tutto a terra con violenza. Dai piedi verrà accalpestata la corona degli ubriachi di Efraim e avverrà al fiore caduco del suo splendor ornamento che domina la valle fertile come un fico primaticcio prima dell'estate. Uno lo vede, lo coglie e lo mangia appena lo ha in mano. In quel giorno sarà il Signore degli eserciti, una corona di gloria, uno splendido diadema per il resto del suo popolo, ispiratore di giustizia per chi sede in tribunale, forza per chi respisce l'assalto alla porta. Quindi si parla di questo di questo condottiero, di questo condottiero, di questo uomo potente e forte che è pronto quindi a liberare Israele attraverso che cosa? Attraverso quello che è l'azione diretta da parte del Signore, quindi da parte di Yahweh, del Dio ebraico. Perciò ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti, signori di questo popolo che sta in Gerusalemme. Voi dite, abbiamo concluso un'alleanza con la morte e con gli inferi abbiamo fatto lega. Il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Poi abbiamo il testimonio già citato che chiude con io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. Quindi abbiamo un contesto in cui la Gerusalemme sembra aver fatto un patto, un patto con quello che è il nemico, un'alleanza con la morte e con gli inferi. Quindi è molto interessante questo, ci troviamo sempre all'interno di quel contesto esilico, quasi post esilico, con una promessa però da parte del Dio ebraico che parla attraverso Isaia. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo. Sarà cancellata la vostra alleanza con la morte, la vostra lega con gli inferi non reggerà. Quando passerà il flagello del distruttore voi sarete la massa da lui calpestata. Ogni volta che passerà vi prenderà, poiché passerà ogni mattino, giorno e notte. Quindi è sempre un contesto politico-militare di pura propaganda perché bisognava far tornare la paura e il terrore di Yahweh, del Dio ebraico, che secondo Isaia non aveva mai abbandonato effettivamente il popolo. Un popolo che doveva sapere che sarebbe arrivata comunque la punizione divina. E poi sappiamo che fra qualche capitolo lo stesso Isaia parlerà di Ciro come l'unto di Yahweh, come il Messia, nonostante comunque Ciro sia in realtà re di Persia e figlio del Dio Marduk. Abbiamo adesso Isaia 40, quindi siamo un paio di capitoli prima, se non ricordo male, la menzione poi a Ciro, a Ciro il Grande. Leggiamo prima il testimonia. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Questo è un testimonia famosissimo, che è citato a più riprese nell'inizio dei vari Vangeli, quando si vuole citare Giovanni il Battista, anzi è associato proprio a Giovanni il Battista, colui che urla nel deserto, che è pronta a preparare la strada del Signore, il famoso preparatore del Messia. Ma anche qui, se lo leggiamo invece nel vero contesto di Isaia, ecco che consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Come vi dicevo, siamo nei capitoli precedenti all'avvento di Ciro, il grande, l'unto, il Messia di Yahweh, e quindi Isaia 40 dice, ecco consolatevi, nonostante la tribolazione, la punizione del vostro Dio, ecco è finita la schiavitù e ci deve essere qualcuno che urla nel deserto che bisogna preparare la strada al Dio, quindi al Signore, a Yahweh, perché? Perché si rivelerà la sua gloria. Quindi siamo lontani da quel contesto evangelico secondo cui colui che urla nel deserto è Giovanni il Battista per preparare la strada al Messia, assolutamente no. Il contesto di Isaia è legato a un altro tipo di contesto storico, anche qui in questo caso politico, perché si sta parlando ovviamente di Ciro che è pronto a liberare il popolo di Israele dal gioco straniero, quindi dall'esilio babilonese. Ci sarebbe anche la citazione di Isaia 53, l'ultimo carme del servo sofferente, ma non l'ho messo in questo video per una ragione, e cioè che è troppo lungo. Se ne dovrebbe parlare veramente tanto, ed ecco perché vi invito a recuperare, ma lo troverete poi qui su schermo alla fine di questo video, il video proprio del servo sofferente che trovate su questo canale dove andremo, dove andrò, ecco, a spiegare in maniera molto approfondita la questione del servo sofferente, perché non può essere associata a Gesù. Però ovviamente se volete che io faccia un nuovo video sul servo sofferente per approfondire ancora di più questo aspetto, scrivete nei commenti e se riceverò tante richieste allora poi preparerò un video dedicato. Andiamo poi in Genesi 12, Genesi 22, siamo in un contesto abbramitico, quindi pre-mosaico, abbiamo quindi Abramo che lascia la sua terra, il testimonia di Genesi 12 dice benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in testi diranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo testimonia per esempio è utilizzato quando Gesù dice agli apostoli, vi do un mandato e coloro che voi benedirete saranno benedette, e coloro che voi maledirete saranno maledette, eccetera, eccetera. Però siamo in un contesto completamente differente, non c'entra nulla tutto questo. In quanto in Genesi 12 leggiamo che il Signore disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua padre, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò, farò di te un grande popolo e ti benedirò, prenderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Quindi, come potete ben vedere, siamo in un contesto totalmente differente. Non si tratta di dare mandato agli apostoli, di dare potere agli apostoli, addirittura forse in molti hanno trovato anche una rivendicazione di potere politico, quindi addirittura il Papa attraverso Pietro che può sciogliere e unire tutto ciò che è in terra, in cielo, benedire e maledire a piacimento. Assolutamente no. Qui è semplicemente questo Dio, che non è detto neanche che sia Yahweh, questo Dio che si incontra con Abramo e gli fa un certo tipo di promessa legato al suo popolo. Quindi siamo sempre all'interno comunque del popolo abramitico, neanche del popolo di Israele. Genesi 22, il testimonia recita Saranno benedettele per la tua discendenza tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce. Anche qui un riferimento a Gesù, quindi se voi mi obbedite sarete benedetti. Ma anche qui il contesto è completamente differente perché siamo in quella narrazione in cui Abramo è pronto a uccidere suo figlio, l'angelo del Signore, quindi l'angelo di Dio, ecco possiamo così, ferma la mano di Abramo e vista questa prova di fede, di fiducia, ecco, gli viene fatta questa promessa, però come potrebbero vedere siamo in un contesto totalmente differente. Quindi questo testimonia cristiano che andrebbe a rivendicare la figura del Messia che è in grado di benedire o di maledire, eccetera, insomma non trova ragion d'essere. Ora siamo in Geremia 31, contesto di poco precedente all'esilio babilonese, è il contesto in cui scrive per l'appunto il profeta Geremia. Questo è il testimonia. Ecco verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato benché io fossi loro Signore. Parola del Signore, questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo riconoscere il Signore perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quindi sembra quasi, è così, una rivendica per esempio la tradizione cristiana che, ecco, Dio stia dando una nuova alleanza, quella famosa nuova alleanza che va a ricordare per esempio il contesto dell'ultima cena, è oltretutto una legge che è scolpita nel cuore, quindi una legge che non serve più scritta perché è dentro di noi. Però siamo, come vi dicevo, nel contesto preesilico. Siamo attorno al VII-VI secolo a.C., quindi abbiamo altri 600 anni in cui però il popolo ebraico usufruirà dell'aspetto puramente normativo del patto mosaico e che farà del patto mosaico il fondamento e la propria identità. Quindi dobbiamo dire che Dio si è dimenticato delle parole di Geremia o perché siamo in un contesto completamente differente, che quindi il testimonia ha poi decontestualizzato. Perché se noi, ecco, ci poniamo in maniera differente, quindi ci caliamo all'interno del giusto contesto, il contesto preesilico è alquanto chiaro. Abbiamo una casa di Israele e casa di Giuda che stanno facendo alleanze con altri popoli, comunque stanno abbracciando altri riti e quindi è necessario invece promettere una nuova alleanza, una nuova alleanza per suggellare quindi quel patto tra Dio e il popolo di Israele e il popolo di Giuda, prima che accada un qualcosa che può essere invece dell'Eteria. Tant'è che infatti leggiamo, così dice il Signore che ha fissato il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come luce della notte che solleve il mare e ne fa mucchiare le onde e il cui nome è Signore degli eserciti. Quando verranno meno queste leggi dinanzi a me, allora anche la progenie di Israele cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre. Quindi voi immaginate, dato che comunque tutte le profezie all'interno dell'Antico Testamento sono post-eventum, cioè quindi scritte dopo che il fatto è accaduto e il riferimento all'esilio babilonese è alquanto chiaro. Quindi nei momenti in cui queste leggi, questa alleanza verrà meno, quelli momenti in cui lo straniero arriverà, ecco che per l'appunto il Signore disconoscerà Israele per poi ovviamente pentirsi come ha fatto comunque più volte. Concludendo con la questione dell'alleanza, dato che si dice, eh ma la nuova alleanza è una e una soltanto, io vi invito a leggere per esempio i lavori di Luigi Moraldi, massimo esperto, uno dei massimi esperti anzi di letteratura vetro-testamentaria, della letteratura cumoranica e degli apocrifi dell'Antico Testamento. Lui stesso comunque ricorda come, ecco, se diamo per buono il fatto che il Dio ebraico è presente nell'Antico Testamento sin dai primi libri, ecco lo stesso Dio ebraico ha fatto comunque patti e alleanze con il suo popolo più volte. Il patto con Abramo, il patto con Mosè, il patto con Giosuè, lo stesso Giosuè quando entrano quindi nella terra promessa di da abbiamo un nuovo patto con Yahweh, il patto con Davide per esempio, e qui con Geremia si parla anche di una nuova alleanza. Quindi vi sono stati diversi patti, ecco, diversi, diversi contratti in merito proprio perché Israele più volte radiva il suo Dio, mentre Yahweh è sempre stato fedele comunque al patto che era pronto a suggellare. Questo invece è Gioele, Gioele 2, siamo invece in un contesto subito dopo l'esilio babilonese, il testimonia recita così, dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quel giorno il mio spirito. Farò provvigine, cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre, la luna in sangue. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure tra i superstiti che il Signore chiamerà. Il richiamo, per esempio, al Paraclito è chiarissimo. Quindi abbiamo quel riferimento, per esempio, allo Spirito Santo che è pronto a essere infuso sugli apostoli e comunque su gli adepti, sui discepoli, sui cristiani. Però anche qui il contesto è completamente differente. Siamo in un contesto di subito dopo all'esilio babilonese e leggiamo dall'inizio Gioele che recita mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio che avrà operato per voi meraviglie e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non c'è nessun altro e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Quindi si parla di un ritrovare un'identità perduta, come scrivo per esempio nel mio libro all'Apocalisse di Gesù, un'identità perduta che Israele doveva recuperare dopo l'esilio babilonese. Quindi il contesto anche qui è completamente differente, non si fa riferimento al Messia che infonde lo spirito ecco sui suoi adepti, sui suoi discepoli. Quindi anche qui i testimoni a cristiani sono del tutto decontestualizzati. Anche qui siamo in periodo post-esilico come sto ben sottolineando nel titolo e anche questo va letto in larga parte. Il testimonia recita così. Esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Il riferimento all'ingresso di Gesù a Gerusalemme è chiarissimo, il Gesù che cavalca quindi quest'asina, addirittura il Vangelo di Matteo, se non ricordo male, per cercare di far aderire ancora meglio questa profezia, fa cavalcare Gesù sia su un puledro che su un'asina, perché vuole essere assolutamente sicuro, e sono in molti ad affermare, ma qua si sta parlando effettivamente del Messia, del re, ed è effettivamente vero, un re che, come possiamo leggere subito dopo il testimonia, farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume confine la terra. È chiaro che si sta parlando di Gesù, è chiaro che si sta parlando di una nuova idea di Messia, dicono gli esegeti cristiani. Quindi è Zaccaria che chiarissimamente sta sancendo una nuova idea di Messia, sì un re, un re che deve dominare, ma non con violenza, ma con benevolenza. Ma come dico sempre, leggiamo interamente Zaccaria 9. In questo caso non la prima parte, dove si parla comunque dei vari re che sono pronti a essere sconfitti, ma leggiamo invece quello che abbiamo, subito dopo quello che abbiamo letto. Quindi, se da una parte abbiamo questo re che è pronto a spezzare l'arco da guerra e annunciare pace alle genti, poi leggiamo ve l'annunzio fino ad oggi, vi ripagherò due volte. Tendo Giuda come mio arco, Efraim come un arco teso. Ecciterò i tuoi figli Sion contro i tuoi figli di Grecia, ti farò come spada di un eroe. Allora il Signore comparirà contro di loro come fulmine guizzeranno le sue frecce. Il Signore l'ha raffiato alla tromba e marcerà fra i turbini del mezzogiorno. Il Signore degli eserciti li proteggerà, divoreranno e calpesteranno le pietre della fionda, berranno il loro sangue come vino, ne saranno pieni come bacini, come i corni dell'altare. Il Signore loro Dio in quel giorno salverà come un greggio il suo popolo, come gemme di un diadema, brilleranno sulla sua terra. Quali beni, quale bellezza, il grano da radbigore ai giovani e il vino nuovo alle fanciulle. Quindi perché vengono spezzati gli archi? Semplicemente perché sarà Giuda, quindi sarà il popolo, il suo arco, il popolo che dovrà andare in guerra. Ecco perché dico sempre leggiamo l'intero passo, leggiamo l'intero contesto letterario. E quindi capiamo perché allora si presenta come colui che annuncia le pace alle genti, una pace che deve essere però ottenuta attraverso una guerra, una guerra in cui verranno lanciate quindi queste frecce, frecce che quindi guizzeranno e verranno quindi divorate, divorate e calpestati dove verrà bevuto anche il loro sangue, il sangue dei nemici. Direi che anche qui il contesto è chiaro e quindi il Messia regale funge sempre da quella figura, quindi ha sempre quella funzione di guerriero liberatore. Siamo verso la fine, ultime due citazioni. La prima è Isaia 61 e leggiamo anche in questo caso primi testimonia. L'ospito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Mi fermo qui perché nei Vangeli quando Gesù va nella sua città natale, quindi legge il rotolo, fa menzione proprio a Isaia 61 e l'Evangelista fa fermare la citazione proprio con a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Peccato però che Isaia 61 continua, ed è una cosa che faccio presente anche nel mio libro, l'Apocalisse di Gesù. A promulgare si l'anno di misericordia del Signore, ma anche un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti. Quindi anche questo è molto interessante perché se poi leggiamo subito dopo, qualche passo dopo, ci saranno stranieri a pasciare i vostri greggi e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. Quindi anche qui viene richiamato per esempio il fatto che siano gli stranieri a dover fare i servi comunque del popolo d'Israele, attraverso quel giorno di vendetta voluta da Dio attraverso l'azione del suo Messia. Per ultimo Deuteronomio 18, quindi questo è il testimonia. Il Signore tuo Dio susciterà per te in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrei così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'oreb il giorno dell'assemblea, dicendo che io non ho da più la voce del Signore, mio Dio non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il Signore mi rispose, quello che hanno detto va bene, io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascoltrà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Quindi qua si parla effettivamente di un profeta, di un profeta che arriverà subito dopo. Tralasciando poi quale può essere effettivamente la identità di questo profeta, ma non si fa comunque menzione a Gesù, siamo in un contesto tra l'Esodo e la conquista comunque, o meglio l'entrata poi nella terra promessa. Quindi siamo di molto, ma molto lontani, 1200 anni prima la nascita di Gesù. Non è una profezia certamente riferita a Gesù, ma anche se fosse, leggiamo quello che vi è scritto dopo. Mai il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione, di lui non devi aver paura. Quindi, anche se si dovesse riferire a Gesù questo passo, quando Gesù dice queste cose accadranno in questa stessa generazione, il regno di Dio arriverà in questa generazione, voi non morrete, beh, se diamo fede comunque a Deuteronomio 18, allora quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola il Signore non l'ha detta. Quindi possiamo dire che Gesù è stato un profeta comunque che ha sbagliato, che non è riconosciuto comunque dal Dio ebraico secondo Deuteronomio 18. Ma questa profezia, o comunque questo passaggio, non si rifà a Gesù, ma si rifà quindi a un contesto completamente differente e anche in questo caso abbiamo un altro testimonio cristiano che dovrebbe rifarsi al Messia, ma che in realtà si rifà a un qualcosa di completamente differente legato esclusivamente al contesto d'origine. Parlando perciò dei cosiddetti testimoni ai cristiani, possiamo effettivamente parlare di una sorta di prefigurazione del Gesù, del Nuovo Testamento, del Cristo, dei cristiani, del Messia, dei cristiani? Assolutamente no. Certo, molte citazioni parlano effettivamente del Messia, ma del Messia ebraico, del Messia della tradizione della cultura ebraica, del Messia che era un guerriero, un soldato, il preferito di Yahweh, che doveva assolvere uno specifico compito, il compito cioè di salvare e liberare Israele per ridonare la terra destinata al popolo di Israele, terra che era di Yahweh, del Dio ebraico, esclusivamente del Dio ebraico, quindi non un Messia di stampo soteriologico, quindi destinato a tutto il mondo, non deveva certo salvarci da un presunto peccato originale, assolutamente no, queste invenzioni di Paolo, più volte l'abbiamo detto e soprattutto non è un Messia né spirituale né divina né addirittura trascendentale, citando sempre ecco Giuseppe Segalla nel video precedente. Non vi è nessuna presupposizione di tutto questo, nessun elemento che lasci presagire, che comunque lasci intendere che il Messia avesse tutte queste caratteristiche, che anzi il Messia era sì il preferito di Yahweh, il preferito del Dio ebraico, ma era perfettamente umano, incastellato in quell'umanità, in quella realtà e soprattutto che doveva risolvere ogni cosa in quella stessa generazione ed è per questo che per l'appunto Gesù, nelle citazioni del Nuovo Testamento, quelle che si presuppongono essere effettivamente di stampo gesuano, quel richiamo alle armi, quel richiamo anche al tenersi pronti per l'avvento del Regno di Dio terreno e politico in quella stessa generazione. Nessun altro sarebbe morto prima dell'arrivo effettivo del Regno di Dio, una promessa che però è stata disattesa. Ecco perché dico sempre importante la conoscenza del contesto perché nei momenti in cui comprendiamo il Messia in quale contesto è ben incasellato, politico, militare, sociale, culturale, allora è ben comprensibile la contezza effettiva della figura del Messia in quel dato momento, in quella data epoca e soprattutto per gli scrittori pagani, per quale motivo ecco condannavano una persona che si professava Messia all'interno sempre di quel contesto, per esempio nelle guerre giudaiche che erano ben conosciute agli autori pagani e perché quindi abbiamo di conseguenza una logica, condanna per crocifissione destinate soltanto ai sobbilatori del popolo e o agli schiavi. Ma dato che Gesù non è uno schiavo, nessuna fonte, ecco ce lo indica come schiavo, direi che la soluzione a questo mistero, e mistero comunque non è, è abbastanza chiara. Quindi io vi lascio con tutto quello che ci siamo detti oggi, come sempre vi ricordo i miei canali social, Esposito a Francesco scrittore per Facebook, ovviamente YouTube Francesco Esposito, continuate a mettere mi piace, iscrivervi, a usufruire la funzione grazie se volete continuare a contribuire alla crescita di questo canale. Qui sotto i link Amazon per i miei libri, valoritarsi la dimensione del cristianesimo, parole cristiane, Gesù semidio e per ultimo l'Apocalisse di Gesù che è protagonista di queste ultime settimane e perciò noi ci diamo appuntamento al prossimo video e alla prossima chiacchierate insieme. Ciao a tutti e grazie.